Tre palestinesi sono stati uccisi lunedì mattina in un raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. È avvenuto nel grande campo profughi di Balata a Nablus. Secondo il Ministero della Salute palestinese, altre sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. L'esercito di Tel Aviv ha reso noto che i soldati israeliani sono stati attaccati con raffiche di armi da fuoco mentre erano in servizio a Nablus. Scontri a fuoco anche a Jenin. È stato un massacro, ha commentato il presidente palestinese Abu Mazen.